Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Hai provato le Airpods della Apple? Se le hai provate sei diventato sicuramente un fan di queste cuffie, di questi auricolari, di questi strumenti di realtà aumentata che secondo me sono una delle più grandi innovazioni di Apple forse dai tempi dell'iPad o dell'iPhone o dell'iPod prima di lui. Cioè ogni tanto ci sono dei prodotti che fanno fare un salto all'esperienza della tecnologia e le Airpods sono esattamente questo tipo di prodotti. Ne ho già parlato in un episodio di Strategia Digitale che ho pubblicato quando sono uscite le Airpods, le prime Airpods e naturalmente te lo metto nelle note dell'episodio se lo vuoi andare a riascoltare e con l'uscita delle Airpods 2 si impone di parlare di questo oggetto, di questa nuova release delle Airpods anche perché si è fatto un sacco di casino intorno alle differenze tra Airpods 1 e Airpods 2. Alcuni hanno cominciato a dire che l'unica differenza era il charging case, la scatoletta nella quale le Airpods trovano alloggiamento che fa anche da batteria che nel caso delle Airpods 2 permette la ricarica wireless e nel caso delle Airpods 1 no e forse tratti in inganno dall'uguale identica forma sia delle cuffie auricolari sia del charging case, molti hanno detto ragazzi non c'è la benché minima differenza questi hanno preso lo stesso prodotto, gli hanno cambiato due feature, gli hanno messo sopra il numero 2 e vogliono vendercelo e invece personalmente ho testato le Airpods 1, le Airpods 2 e nel frattempo ho anche messo di mezzo degli altri cuffie auricolari che sono state portate sul mercato un po' come le anti-Airpods cioè i Pamu Scroll e quindi ho avuto la possibilità di provare su di me le esperienze derivanti dall'utilizzo di questi prodotti e vi dico che oggi scopriremo la differenza sostanziale, non solo quella apparente, tra Airpods 1 e Airpods 2 prima di farlo ti ricordo che strategiadigitale.info è il luogo dove ci ritroviamo online dove trovi i contenuti speciali, la possibilità di diventare finanziatore di questo podcast la possibilità di lasciare una tua recensione o di ritrovare qualsiasi episodio già pubblicato nel passato insomma, se è la prima volta che passi da qua facci una passata perché troverai il modo di iscriverti ed entrare più dentro questo progetto se non è la prima volta che passi da qua, bene, sai dove mandare i tuoi amici per fare con loro bella figura ma ora bando alle ciance perché è arrivato il momento di scoprire finalmente insieme che differenza c'è tra gli Airpods 1 e Airpods 2 allora, per me stesso non è stato facilissimo capire la differenza prima di acquistare il prodotto perché si è fatto un sacco di confusione tra Airpods 1 e Airpods 2 ho cominciato a chiedere alle mie fonti tra i teenager io sono in contatto con validissimi esperti di tecnologia tra i 13 e i 15 anni che mi portano sempre dritte tra cui quella sull'uscita degli Airpods 2 tant'è vero che ho comprato il mio paio di Airpods 1 ennesimo dopo averli persi non mi ricordo dove proprio poco tempo prima dell'uscita degli Airpods 2 e uno dei miei informatori mi ha detto guarda che sta per uscire, stanno per uscire quelli nuovi riportali all'Apple e così ho fatto li ho riportati all'Apple con la scusa che nel frattempo avrei provato i Pamu Scroll questi cuffie molto simili agli Airpods stesso concetto, cuffie auricolari wireless assolutamente a scomparsa dentro l'orecchio e devo dire ragazzi volevo fare una recensione non l'ho fatta perché i Pamu Scroll non mi sono piaciuti per nulla non mi sono piaciuti per nulla mi dispiace perché sono sicuro che molti tra di voi sono assoluti fanatici del Pamu Scroll sono diventati questi Pamu Scroll un fenomeno sono un Indiegogo un prodotto finanziato attraverso crowdfunding quindi ha riscosso grandissimo successo io stesso li ho acquistati per regalarli li ho acquistati per me per provarli su consiglio del mio amico e collega podcaster Rick Dufer che è assolutamente nera entusiasta a me mi hanno fatto totalmente schifo forse perché ho l'orecchio di una forma per cui gli auricolari in-ear quelli che si devono ficcare tipo il tappo dentro il collo della bottiglia non mi si bloccano bene quindi addirittura mi sono caduti poi vado in bicicletta e quindi capisci quant'è piacevole perdere un auricolare mentre stai sparato in bici in mezzo al traffico chiudiamo la parentesi Pamu Scroll appena sono usciti gli Airpods 2 i miei informatori mi hanno detto Giulio vai a comprarteli e allora sono andato a comprare questi Airpods 2 prima però ho voluto raccogliere un po' di informazioni per capire se veramente ne valeva la pena anche perché il costo degli Airpods 2 è leggermente superiore a quello degli Airpods 1 oddio leggermente sono diciamo 179 degli Airpods 1 contro i 129 degli Airpods 2 quindi non proprio spiccioli tra l'uno e l'altro allora mi sono informato per capire che differenza c'era bene più chiedevo in giro più c'era confusione allora alcuni dico dei negozianti cioè negozianti che vendono Apple sono entrato dentro al negozio gli ho chiesto ce l'avete gli Airpods 2 che differenza c'è tra un modello e l'altro e mi hanno detto ma guarda sostanzialmente nessuna differenza solo che gli Airpods 2 hanno la ricarica wireless allora questa ricarica wireless consiste nel poter poggiare il charging case la scatolina nella quale si mettono gli auricolari su una qualsiasi piastra di ricarica wireless io l'ho testata con una costosissima piastra che ho comprato al Tiger per la modica cifra di 10 euro e questa piastra con la quale ricarico il mio iPhone X vale anche e funziona anche con il charging case degli Airpods 2 quindi ricarica wireless molto carino perché devi semplicemente abituarti a poggiare il tuo telefono o il tuo charging case delle Airpods in un punto prefissato io ce l'ho in cucina quindi la sera prima di andare a letto vado lì e poggio il telefono poggio gli Airpods in un punto dove il mio braccio proprio per memoria muscolare è una specie di riflesso condizionato cioè ormai quando a volte vado a letto e dico oddio l'ho messi a caricare perché li ho messi a caricare ma mi viene talmente automatico che neanche ci penso non c'è più neanche quel momento non so se capita anche a voi in cui devi inserire il cavetto del lightning dentro il buco e a volte prende a volte non prende dipende dal cavo ci devi soffiare dentro insomma con la ricarica wireless è vero che ci metti di più a ricaricarsi ma soprattutto se lo metti lì nei momenti off oppure se hai una piastra di ricarica wireless per il tavolo la scrivania dove lavori è molto molto comodo perché anche lì se qualcuno ti chiama e deve rispondere al telefono non devi praticamente tirarti appresso mezzo tavolo perché hai il telefono in ricarica oppure staccare di corsa la ricarica per poter rispondere semplicemente sollevi il telefono dalla piastra e cominci a parlare quindi ricarica wireless figata tutta la vita ma vale la pena comprare gli airpods 2 solo per la ricarica wireless anche perché alcuni volevano fare i furbi mi hanno detto scusa Giulio gli airpods 1 sono completamente compatibili con il charging case degli airpods 2 quindi potresti comprare solo la scatoletta di ricarica prendere i tuoi vecchi airpods ficcarli dentro la scatoletta e il gioco è fatto quindi puoi risparmiare qualche soldo comprando semplicemente il box di ricarica e poi un box in più non fa mai male in realtà a livello proprio di caratteristiche tecniche gli airpods 2 hanno delle lievi differenze allora per esempio la vita la durata della batteria durante la conversazione aumentata del 50% da 2 ore a 3 ore non è male la durata della batteria nella riproduzione di musica è sempre la stessa ma attenzione io che sono bello nerd mi piacciono queste cose è cambiato il chipset siamo passati al chipset w1 w1 degli airpods 1 al chip h1 delle airpods 2 ma in realtà non si è capito bene qual è la differenza tra l'uno e l'altro però fa molto figo dire la sigla del chipset anche la parola chipset fa figo quindi noi la diciamo e prendiamo atto di questa differenza la versione del bluetooth tra i due airpods è totalmente uguale parliamo della 5.0 quindi andiamo a questo punto a vedere visto che la differenza tra la ricarica del charging case l'abbiamo già citata stiamo parlando della possibilità di ricaricare in maniera wireless rispetto alla necessità di ficcare dentro il cavetto lightning beh andiamo a vedere allora la caratteristica fondamentale tecnica di questi airpods 2 ed è in realtà la connessione con siri di che cosa sto parlando sto parlando del fatto che sostanzialmente sugli airpods 1 per accendere o spegnere la musica o per evocare siri quindi far partire la possibilità di dare comandi vocali dovevi dare un doppio tap sull'orecchio quindi sull'airpods toccavi due volte l'auricolare e a quel punto sentivi un suono e potevi dire siri fammi sentire la musica oppure dimmi che ore sono bene negli airpods 2 questa funzionalità è evocata semplicemente con l'utilizzo della voce quindi non devi più avvicinare la mano all'orecchio e fare un doppio tap sull'orecchio ma basta dire e i siri e a quel punto parte direttamente la possibilità di poter dare istruzioni vocali uè Gaudiano ma non mi sembra una grande innovazione questa né beh potrebbe non sembrare una grande innovazione partiamo dall'assenza del fastidio del dare la doppia botta all'orecchio una cosa è darla una volta al giorno ma se cominci a utilizzare parecchio la funzionalità di comando vocale diventa bello fastidioso che devi dare questo tt 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 sull'orecchio io sono molto sensibile a me questa cosa dà fastidio quindi visto che posso risparmiarmi un fastidio mi piace molto poter evocare Siri semplicemente con l'utilizzo della voce ma la cosa secondo me che deve più interessarci più sconvolgerci più emozionarci degli Airpods 2 è il salto in avanti che hanno fatto tra la release del modello 1 e la release del modello 2 in termini di esperienza del comando vocale quello che voglio dire proprio terra terra è che i ragazzi di Apple si sono messi giù a studiare hanno fatto i compiti a casa e hanno migliorato di brutto l'interazione con Siri tra il modello 1 e il modello 2 e hanno migliorato di brutto l'esperienza di questa interazione da parte dell'essere umano quindi più la tecnologia diventa trasparente più non devi decidere di utilizzare un device tecnologico per fare qualcosa ma semplicemente esprimi la tua volontà attraverso un comando così come lo faresti nella vita reale più secondo me c'è avanzamento dal punto di vista tecnologico cioè la tecnologia non è solo la potenza computazionale non è che ti metto là un computer quantico che ti spara un un'elaborazione alla velocità della luce e allora abbiamo fatto un passo avanti dal punto di vista della tecnologia no non è solo questo si avanza dal punto di vista tecnologico quando la tecnologia diventa talmente frictionless talmente fluida nell'utilizzo senza senza attrito senza bisogno di dire ok questa cosa ora mi metto e la faccio col computer la faccio col telefono no ti viene spontaneo esprimere un tuo bisogno risolverlo riuscire a risolverlo tramite una forma esperienziale uguale a quella che avessi nella realtà più abbiamo realmente progresso allora quando oggi dico anzi devo bloccare in qualche modo il telefono speriamo che non scatti quando dico hey Siri e in maniera automatica il l'ascolto da parte dell'intelligenza artificiale parte senza neanche darmi feedback vuol dire che abbiamo fatto un passo avanti esatto senza neanche darmi feedback rispetto alla versione 1 abbinata agli AirPods 1 alla versione 1 di Siri questo nuovo Siri non ti fa sentire il suono non ti fa sentire questo suono elettronico che ti dice ok dimmi ti sto ascoltando questa assenza di feedback che in Amazon Echo con Alexa abbiamo trovato fin da subito e che personalmente ho trovato spiazzante cioè io mi devo girare per vedere se Alexa mi sta ascoltando cioè se si è accesa la lucetta sull'Eco Plus perché non c'è nulla di più frustrante che dire hey Alexa riproduci musica jazz e poi sentire il silenzio girarsi e accoggersi che in realtà Alexa non ti ha sentito proprio non sei riuscito ad attivarla attraverso la tua evocation world activation world dall'altra parte invece Apple ci ha abituato prima ai tempi di questa interazione cioè ci ha abituato al tempo necessario per Siri per ascoltare quello che stiamo dicendo ai suoi tempi di reazione proprio come nella realtà noi quando ci rapportiamo con un bambino o con un anziano sappiamo che ha dei tempi di reazione diversi rispetto a quelli di una persona adulta nostra coetanea per esempio quindi sappiamo che se facciamo una domanda dobbiamo aspettarci di aspettare più tempo aspettarci una risposta dopo un tempo superiore rispetto a quello che potremmo avere con una persona con la quale conversiamo nel luogo di lavoro in una conversazione veloce ecco allo stesso modo Apple ci ha abituato ai tempi di reazione di Siri dandoci un feedback attraverso un suono tecnologico questo suonetto che ci diceva ok ti sto ascoltando puoi darmi il comando e nella versione 2 invece sfruttando la capacità di apprendimento delle persone degli esseri umani ha eliminato questo suono e l'ha sostituito semmai in un tempo superiore quindi dandoti comunque la possibilità intanto di esprimere il comando per dirti guarda e ti sto ascoltando non ha messo un suono non ha messo dimmi sono a tua disposizione ma ha messo una frase un anzi non una frase un suono estremamente umano cioè Siri ti risponde a volte e a volte sì quindi come farebbe un essere umano che non risponde sempre allo stesso modo a volte semplicemente con questo suono della voce ti indica che ti sta ascoltando a volte con il sì ti fa capire che è pronta a ricevere il tuo comando pronta ad aiutarti e questo secondo me è un passaggio importantissimo perché fa vedere come chi sta disegnando queste tecnologie di interazione vocale non sta lì a fare il programmatore ma sta studiando il modo in cui gli esseri umani si relazionano tra loro in cui noi esprimiamo i nostri bisogni i nostri desideri attraverso il linguaggio quindi sta studiando la tecnologia l'interfaccia che è il linguaggio cioè il linguaggio è una tecnologia che noi esseri umani abbiamo sviluppato per avere un'interfaccia tra noi e il resto del mondo e quindi è una tecnologia antichissima e studiare questa tecnologia antichissima estremamente umana che viene ancora prima della scrittura ci dà un vantaggio ci permette di far combaciare lo sviluppo della tecnologia quella del software la potenza computazionale con quella che è la nostra esperienza di questa tecnologia allora la attivazione di Siri sugli Airpods 2 avviene in maniera totalmente vocale quindi non devi toccare i tuoi Airpods ma ti basta chiamare l'intelligenza artificiale digli ehi Siri esprimere il tuo comando non hai feedback non hai assolutamente feedback quindi non c'è non ci sono suoni che ti confermano la comprensione o l'ascolto di quello che stai pronunciando semplicemente a volte i feedback sono feedback molto umanizzati anche l'attesa quando per motivi di linea Siri non riesce a darti immediatamente il risultato la risposta di cui hai bisogno ti dice aspetta un attimo ancora un attimo abbi pazienza ecco cambia ogni volta il suo modo di rispondere e si prende tutto il tempo proprio come se fosse una persona che dice aspetta fammi un attimo ragionare e ora ti rispondo ha fatto anche dei passi avanti sugli Airpods 2 e Siri dal punto di vista dell'intelligenza vera e propria cioè della sua capacità di darti dei risultati non ti dice semplicemente qual è il cinema più vicino o qual è la programmazione del cinema più vicino ma poi anche chiedergli gli orari di un film all'interno di un cinema specifico o gli orari del film nei cinema della zona nella quale ti trovi insomma si è stato ha fatto qualche passo avanti anche dal punto di vista della complessità della capacità di gestire la complessità della richiesta e vedendo come è riuscita a evolvere dal momento della prima release a oggi e vedendo quello che sta facendo la sua cugina Alexa attraverso Amazon che progredisce sempre di più è in grado sempre di più di rispondere alle domande e ai comandi di maggiore complessità da parte nostra mi aspetto cose veramente strabilianti cioè mi aspetto una curva nella nello sviluppo di questa tecnologia a forma parabolica e al momento sono stati fatti passi avanti ma ancora rimane molto da fare sull'interoperabilità voglio dire che quello che Amazon ha capito molto bene sulla possibilità di mandare messaggi vocali che siano anche trascritti ma che portino anche la registrazione del messaggio vocale nel sistema di messaggistica interna ancora la nostra amica Siri ed Apple non ce lo stanno offrendo sì è vero puoi mandare messaggi sms puoi mandare messaggi iMessage puoi anche dettare messaggi all'interno di altre applicazioni per esempio Telegram per esempio Whatsapp ma rimangono delle barriere queste barriere sono sicuramente la sfida del domani sono le barriere dell'utilizzo di applicazioni da parte dell'intelligenza artificiale relative al sistema detto terra terra Spotify permette a Siri di aprire determinate canzoni di avviare una tua playlist al momento Siri ti dice proprio purtroppo non posso fare niente con l'app di Spotify quindi che cosa ci aspettiamo dal prossimo futuro ci aspettiamo di poter utilizzare la nostra intelligenza artificiale preferita a prescindere dalla piattaforma questo sarebbe proprio il massimo poter evocare Siri dall'Amazon Echo o evocare Alexa all'interno degli Airpods questo mi piacerebbe tantissimo purtroppo temo che non si realizzerà ma almeno queste intelligenze artificiali abbinate alle piattaforme a seconda della società che ha sviluppato quella piattaforma quella tecnologia ci permetteranno di utilizzare tutte le app oppure anche le app si schiereranno io so della Roma io so della Lazio si schiereranno da una parte o dall'altra per cui Spotify ora se la fa con Amazon per cui si fa comandare da Alexa ma non si fa comandare da Siri questa è una bella sfida vedremo se queste corporation faranno il nostro interesse ci verranno incontro come utenti come utilizzatori di queste tecnologie vedendo magari anche studiando quanto le persone chiedono di utilizzare una determinata applicazione nonostante i limiti imposti al momento dagli accordi di mercato oppure se queste corporation ancora una volta decideranno di fare i loro comodi siamo arrivati alla fine di questo episodio bene ragazzi allora differenza delle Airpods 1 con le Airpods 2 piccole dal punto di vista tecnico apparentemente anche la qualità dell'audio è un po' migliorata la velocità con la quale si connettono ma la differenza più rilevante è quella nell'esperienza nell'utilizzo per cui oggi chi ha le Airpods 2 può semplicemente dire hey Siri dare i suoi comandi chi invece ha le Airpods 1 deve fare un doppio tap sull'orecchio e entrare dentro una modalità che è l'interazione con l'intelligenza artificiale che non è assolutamente fluida come potrebbe essere con le Airpods 2 vale questo la pena per cambiare le Airpods 1 con le Airpods 2 lasciandole da parte per comprare quelle nuove ma questo non lo so questo lo lascio a voi di sicuro di sicuro queste tecnologie continueranno a evolvere quindi magari se perdete il ciclo delle Airpods 2 potrete se già avete le 1 passare direttamente alle Airpods 3 una cosa volevo dire per chi è rimasto deluso del fatto che le Airpods non sono state disponibili in diversi colori ragazzi ma lo sapete che ormai è un tratto distintivo è il design della Apple quindi non me lo aspettavo che fossero disponibili in diversi colori ma sono disponibili una quantità infinita di copri charging case copri Airpods diciamo così me ne ha regalato un paio stupendo Giacomo Siska un paio in pelle veramente belle con un moschettone vintage me ne ha regalate per il mio compleanno le ho tenute lì da parte finalmente le ho utilizzate per mettere dentro le mie Airpods quindi ringrazio Giacomo chi segue Strategia Digitale su Telegram ha già visto la bellissima fotografia di questi porta Airpods quindi vi potete sbizzarrire con le coperture per i porta Airpods poi la possibilità di avere le Airpods senza diciamo waterproof senza necessità di levarle neanche quando sta in vasca o le Airpods con il real time audio cioè la possibilità di sentire l'audio esterno come se non le avessi è una funzionalità un po' particolare ci sono varie cuffie già sul mercato che ti danno questa possibilità cioè quando ce l'hai addosso ti sembra addirittura di avere il super udito perché senti i rumori intorno a te proprio come se non avessi le cuffie il suono attorno a te non è ovattato secondo me una funzionalità del genere potrebbe realmente arrivare a farti tenere le Airpods 24 ore su 24 anzi no tutto il tempo della veglia indossate perché non ti accorgeresti di indossarle tanto quanto sono leggere ma potrebbe essere negativo per le prestazioni della ricarica perché se non ci fa differenza tra averle o non averle non le rimettiamo mai nella scatolina e non si ricaricano mai vedremo che direzione prenderanno queste Airpods nel frattempo ragazzi se avete delle vostre impressioni su queste Airpods 2 le avete provate volete farmi sapere come vanno sapete che attraverso Telegram c'è sempre un contatto diretto quindi telegram.me slash strategia digitale vi ringrazio per aver ascoltato questa recensione impressione personale tra le differenze tra Airpods 1 e Airpods 2 ringrazio tutti coloro che mi hanno dato suggerimenti che mi hanno suggerito di testarle coloro che sono produttori di strategia digitale che finanziano questo podcast ringrazio anche Irene Truant la coautrice del podcast il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it grazie per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano